Antonio Flora Flores ha appena ricevuto i complimenti anche da Donadoni che ha detto che è stato uno degli acquisti più importanti del mercato insieme a Quagliarella, facendo comunque gli elogi e allargandoli a tutta l'udinese. Quello mi fa molto piacere perché a livello personale avere i complimenti del cittadino nazionale è un piacere enorme, però adesso non per lui dimostrare quello che ha fatto la società. Come ti sta inserendo nei nuovi meccanismi di gioco? Bellissimo, ci divertiamo, siamo in uno spazio, però a livello di gruppo, ho trovato veramente un buco eccezionale dei ragazzi a disposizione. Date l'impressione di giocare a memoria, anche se è poco che giocate assieme. No, 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 ci divertiamo, facciamo un po' i ciechi del mister e qualche volta ci riesce a incontrare qualcosa di troppo, quindi non può fare altro che piacere e continuare a doverci, ma che viene a fare le giuste voglia. Fra poco è già campionato, si parte con l'Inter e poi subito il Napoli, diciamo una sfida facile. Vabbè, è facilissimo, è una partita molto difficile, quindi questo è un cambiato, anzi è un cambiato molto difficile. Speriamo di dimostrare alla gente, a noi stessi, alla società che siamo all'altezza della situazione. Proprio con Napoli tu che cosa proverai? Nau è la mia città, è la fine della città dove sono Nau, ho giocato quattro anni, quindi penso che ho sempre le emozioni a parte che ti ricerisci, quindi speriamo che non mi preghi e non faccio più scherzi.